Sei un 1 o 1 0? E' questa la domanda che dovresti porti. Sei un sì o un no? Farai qualcosa oppure no? Quando arrivi al dunque, dietro ogni scelta, c'è soltanto un 1 o 1 0? Agire o restare fermo? Se esci fuori da quella porta, decidi di non fare nulla, di dire no, senza poter tornare indietro. Diventi un 1 0, senza più far parte di tutto questo. Ma se resti, se vuoi cambiare le cose, allora diventi un sì. Tu diventi un 1. Grazie a tutti.